Ricorre oggi il secondo anniversario della morte in un incidente aereo dell'assessore e beni culturali e archeologo siciliano di fama mondiale Sebastiano Tusa. Era il 10 marzo del 2019 quando si verificò il disastro aereo di Addis Abeba. L'aereo con a bordo Tusa cadde poco dopo il decollo dalla capitale dell'Etiopia, l'incidente che costò la vita a lui e altre 156 persone. A due anni dalla scomparsa il ricordo di Sebastiano Tusa è ancora vivo nella memoria di quanti hanno avuto la possibilità di conoscerlo. La regione siciliana ha voluto dedicare all'archeologo la giornata dei beni culturali con apertura gratuita nella giornata di oggi di musei, parchi e gallerie. A Palermo hanno inoltre preso il via i lavori di recupero conservativo della cappella del Santissimo Crocifisso all'interno della chiesa di San Domenico, luogo scelto per accogliere le spoglie dell'ex assessore regionale. La sorella Lidia ha voluto ricordarlo con la pubblicazione di un video con delle foto di famiglia, che mettono in evidenza il lato privato dello stimato archeologo. Quello che io ricordo di mio fratello non coincide con il suo aspetto pubblico, quello che gli altri conoscevano di lui, tranne forse gli amici, persone che lo hanno conosciuto più da vicino. So che lui viene ricordato, viene lodato per la sua cultura, per la sua intelligenza, per le cose che ha saputo realizzare, anche per certi tratti del suo carattere che erano l'umiltà, la semplicità. Non essere superbo, non essere lontano dalle persone, ma cercare sempre di mettersi nei panni degli altri.